Come direbbe Russell, allora giustamente, giustamente. Senti Mango, hai avuto tanto successo per le nostre ragazze, per tutte le ragazze del pubblico, che ti abbiamo chiesto di fare un'altra canzone. Io la faccio ben volentieri. Oh, sono contenta. Però non faccio dal cuore in po'. No. Dal cuore in po' l'abbiamo seguita prima. Voltiamo pagina, anzi, voltiamo disco e troviamo Inseguendo il vento. Mango! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.